Eccoci qui con la nostra sposina al convento il sabato notte i nostri nubilati lei è la prima fashion lei dice la prima figura di merda la sto già facendo qui alle otto e mezza allora il tuo nome lena lena come c'è anche la canzone lo sai che fa lena no fa lena io chiero bailar el bugalo la canzone di cuba e allora allenati un pochino allora lena con chi ti sposi bim bim sembra quasi un cartone sembra quasi un cartone tom e jerry allora conne che ti sposi il 25 dicembre il giorno di natale ti sposi alle maurisius maurisius faccia fatica a dire maurisius perché più lontano di brescia non sono mai andato quindi maurisius allora dalla romagna lei è un po romagnola allora dimmi subito un pregio e un difetto del tuo futuro marito non sono emozionate quando quando esci dalla chiesa ritornò già ancora prima di uscire dalla chiesa queste invece in diretta on allora dimmi subito un pregio e un difetto il tuo futuro marito abbracciata a me dimmelo a me un difetto lei parte subito dal difetto non le ha il pregio un pregio mi fa sentire accolta quanto che bravo e quanta donna che siamo sentiti accolta allora chiamiamo anche l'amica che piange e invece lei che si chiama beatrice beatrice che viene da milano da milano lei è la donna degli aperitivi viene da milano lei è la donna degli aperitivi dimmi invece te un pregio un difetto della sposa allora un pregio bellissima e dolcissima uno non due ho detto va bene lo stesso ma non ce la faccio più a farne meno di due un difetto non ne ha è veramente perfetta è perfetta si mette a piangere sembra quasi che si sono messe d'accordo loro non ridono perché si stanno divertendo ancora il commento ridono perché a milano hanno bevuto otto aperitivi quindi è la conseguenza dell'alcol è che ridono senza parlargli allora salutiamo Mauritius dove ti sposerai ok salutiamo verso la camera anche voi ragazzi ciao a bombazzo